oggi facciamo il video a questa splendida porsche mccane s diesel in vendita presso la nostra concessionaria però lascio guardare auto in condizioni eccellente veramente un bel prodotto andiamo ad aprirla l'interno pelle bicolor sicurezza di elettrici tetto aprivile vado ad accenderla non l'ho preso perché non l'ho capito avviatore tutti i vari ops veramente ben tenuta sembra nuovo anche i sedili se guardate non presenta nessun segno di usura ventilazione posteriore cerchi del vento sono veramente belli l'aurens free veramente un bel prodotto